Stefano onora la venuta di Gesù offrendo in dono la sua stessa vita e mostra come vivere in pienezza il mistero del Natale. All'Angelus di oggi il Papa spiega il senso del martirio del Santo che pagò con il più grande sacrificio la sua fedeltà al Signore. Richiamando il Vangelo, sarete odiati da tutti a causa del mio nome, Francesco evidenzia come queste parole non turbino lo spirito del Natale, ma lo spoglino del rivestimento dolciastro che gli appartiene. Ci fanno comprendere, sottolinea, che nelle prove accettate a causa della fede la violenza è sconfitta dall'amore, la morte dalla vita. La strada è quella indicata dal Vangelo, dare testimonianza a Gesù nell'umiltà, nel servizio silenzioso, senza paura di andare controcorrente e di pagare di persona, soprattutto nella coerenza, grazie da chiedere a Stefano con la fede che si professa. Pensare, sentire e vivere dunque come cristiani e non come pagani è un cammino esigente che porta alla pace di Dio. Una pace in grado di rasserenare la coscienza di chi, attraverso le prove della vita, sa cogliere la sua parola e la mette in pratica. Oggi, fratelli e sorelle, preghiamo in modo particolare per quanti sono discriminati e perseguitati e uccissi per la testimonianza resa a Cristo. Vorrei dire a ciascuno di loro, se portate questa croce con amore, siete entrate nel mistero del Natale, siete nel cuore di Cristo e della Chiesa. Preghiamo inoltre perché, grazie anche al sacrificio di questi martiri di oggi, ne sono tanti, tantissimi, si rafforzi in ogni parte del mondo l'impegno per riconoscere e assicurare concretamente la libertà religiosa, che è un diritto inalienabile di ogni persona umana.